Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany ed è arrivato finalmente il momento di parlare insieme del libro che più attendevo insieme a quello di Erin Morgenstern in questa seconda metà dell'anno, ovvero Ninth House di Leigh Bardugo. Ci tenevo moltissimo a fare una recensione molto completa, quindi visto che sarà una questione abbastanza lunga perché volevo farvi una recensione molto approfondita, cercando di essere il più obiettiva possibile, poi dandovi ovviamente la mia opinione, sarà una questione abbastanza lunga. Quindi preparatevi una tazza di tè oppure se state facendo le pulizie sarà comunque lunga. Niente, appoggiamo subito questa bellezza che io ho la versione di Waterstone, anche se la mia preferita è l'egizione americana, quella tutta nera e bianca, ma questo abbiamo ma non ce ne lamentiamo, guardate che bella la sfumatura, vabbè e niente, direi di partire. Premesse, 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 Ninth House a mio parere non è assolutamente un libro per tutti, tanto per cambiare. Vi faccio già delle premesse di trigger warning come è successo anche per Nevernight, è un libro che contiene violenza, scene esplicite, abuso e cose abbastanza pesanti al loro interno. Soprattutto c'è una violenza molto esplicita, quindi se a voi non piace la descrizione di alcune cose dove c'è coinvolto sangue, eccetera, forse è il caso di pensarci molto bene, se iniziarlo o meno. Per chi invece, insomma, non si fa fermare da questo tipo di tematiche, inizia la vera e propria recensione qua. Allora, altra premessa che vi faccio è dirvi che sappiate che a me è piaciuto moltissimo, gli ho dato quattro stelline abbondanti, ma secondo me per alcuni versi se ne merita molte di più e vi spiegherò man mano perché, spero di essere abbastanza chiara nel viscerare un po' tutto questo libro, perché secondo me al di là del voto che gli si può dare, insomma l'opinione che si può dare, ha degli spunti che secondo me lo rendono un libro molto interessante, molto originale. Ma partiamo proprio dalla base, perché secondo me in questo caso è giusto capire di che cosa si parla. Ninth House è un urban fantasy, direi di genere dark academia, che però mescola elementi di genere horror, di genere mystery e di genere thriller, sono abbastanza mescolati insieme. È un romanzo scritto per adulti e quindi è possibile identificarlo come un fantasy per adulti, anche se alcune tematiche, a mio parere, dopo averlo letto, posso dire che possono essere un po' più individuabili a cavallo tra il genere per adulti e invece young adult, comunque new adult, ok? Per alcuni versi sicuramente entra a pieno nel genere di fantasy per adulti, per altri versi invece continua ad essere un po' più imbilico, sicuramente non per la scrittura. La scrittura è una scrittura orientata al genere per adulti. Insomma per questo secondo me è molto adatto ad entrambi i pubblici, che però devono apprezzare quanto detto sopra, se no apprezzare o comunque sopportare quanto detto sopra, se no sarà più difficile. Ninth House racconta la storia di Alex Stern, che è una raga osterna perché è tedesco, vabbè comunque. Alex riesce ad entrare a Yale nonostante sia un ex tossicodipendente scappata da casa e riesce a farlo per una sua capacità che nessuno sa o quei pochi che conoscono ridicolizzano e la prendono per pazza. Lei vede i fantasmi e a volte riesce anche ad entrare in un contatto più profondo con loro. E questa caratteristica e questa sua peculiarità le ha sempre rovinato la vita, ovviamente. Fino a quel momento è stato solo un problema, eppure diventa uno strumento molto prezioso per The House of the Vale, ovvero la lette, ovvero la casa, la società segreta, che ha il compito di vigilare sulle altre otto case le società segrete di Yale e fare in modo che le cerimonie e i rituali compiuti dalle società vadano a buon fine, vengano portati a termine senza problemi. Le società hanno bisogno di una persona come Alex perché hanno bisogno di vedere quelli che loro chiamano i grigi, perché proprio a Yale i fantasmi sono ovunque, specialmente intorno alle società segrete in cui i ricchi e i potenti eseguono dei rituali occulti molto scuri per diventare ancora più ricchi e ancora più potenti. Ma mentre Alex inizia ad inserirsi nella sua nuova vita, si rende conto che le otto case non stanno solo ottenendo il proprio potere grazie alla magia, ma lo stanno facendo soprattutto a discapito dei meno potenti, in particolare degli abitanti più indifesi di New Haven e del circondario. Nel corso della narrazione di Ninethouse cercheremo di scoprire e inseguire tre misteri principali. Il primo e forse quello meno chiaro è chi è Alex e poi perché il mentore di Alex nella leve, ovvero Darlington, è scomparso e nessuno sa che fine abbia fatto e chi ha ucciso una ragazza nel campus che apparentemente non ha alcun legame con le otto case. Questa è a grandi linee la trama, sapete che non è la mia parte preferita da descrivere, ma penso fosse doverosa in questo caso. E qualsiasi altra cosa io potessi dire è spoiler, quindi ho evitato di farlo. Detto ciò, Ninethouse probabilmente si componerà di due o tre volumi, è una serie, in questo caso è uscito il primo volume, anche se era stata concepita con un arco di cinque libri. Poi, per il fatto che Amazon ha già comprato i diritti, si è deciso di ridurlo per non dover fare l'effetto Martin, questo è quello che ha spiegato Libardugo nella presentazione di Londra. Allora, quindi, parliamo, andiamo per gradi, ma iniziamo a individuare un po' quello che secondo me è interessante legato a Ninethouse. È un libro molto peculiare, non è assolutamente adatto a tutti quelli che hanno amato Sadie Corvi o gli altri romanzi che lei ha scritto, perché qua siamo proprio su qualcosa di... un livello molto differente. Ed è anche, allo stesso tempo, un esperimento molto originale, molto a sé, anche per chi è abituato a leggere Paranormal e Urban Fantasy per adulti, perché, a mio parere, ci sono degli elementi davvero molto originali e molto stranianti. Questo crea sia degli aspetti molto positivi, ma anche cose che non funzionano del tutto, al 100%. Partiamo dall'aspetto che forse a me ha più affascinato di tutto questo mondo, ovvero il world building. Queen Lee immagina New Haven come se fosse un territorio pieno di magia. New Haven è dove sorge Yale, ed è come una terra dove i morti e i vivi riescono ad essere più vicini che in qualsiasi altro luogo al mondo, dove il velo è veramente molto sottile e spesso si può attraversare. Infatti la magia racchiusa attorno a questo mondo ha permesso alle società segrete di nascere, di fiorire, e ognuna di essi esegue dei rituali di natura molto diverse gli uni dall'altro, oltre ad avere dei poteri diversi per ogni casa. E la natura di questi rituali occulti che compiono spesso è abbastanza controversa, se non decisamente controversa. New Haven è una cittadina dove sorgono otto tombe fondamentali, sopra le quali sorgono le altre tante case che ospitano le società segrete di Yale, e che quindi ne sono diventate le loro sedi. L'atmosfera generale che respiriamo quando arriviamo in questo luogo però non è qualcosa di elettrizzante, in realtà l'atmosfera è estremamente cupa, è molto densa, perché ci sono troppe cose non dette, c'è tutto un tipo di ritualistica anche interpersonale che è impossibile da conoscere a pieno e che crea continuamente disagio, e l'atmosfera continua ad essere cupa, decadente, permeata dai misteri e dai segreti che noi lettori cerchiamo di svelare. Night House infatti mescola proprio tutti questi elementi, come vi dicevo prima, dell'urban fantasy, ma anche qualcosa che ha a che fare con l'horror in maniera molto 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 minimale, ma anche con il thriller, il mistero. È un commistione di generi, secondo me è molto riuscito, perché riesce, grazie a prendere elementi da tutti i generi, a creare un'atmosfera molto unica e molto solida. Quasi come se andasse anche a ripescare degli elementi dal realismo magico. Un po' l'atmosfera è come di entrare in un secondo mondo che noi non vediamo, quindi attraversare una società che i poveri babbani non riescono a percepire, a vedere, vivono le loro vite tranquille, ma nel sottobosco c'è molto altro. Tutta la vicenda e i tre misteri si sviluppano su archi temporali differenti. La storia di Alex, ad esempio, non ci viene svelata in maniera lineare. Noi continuamente balziamo avanti e indietro nella sua storyline, negli episodi della sua vita che in quel momento ci servono, perché ci svelano un piccolo ricordo, un qualcosa che a noi serve per decifrare un aspetto di Alex e che quindi mano a mano vengono messi a fuoco per darci degli elementi sulla situazione presente. In più Darlington, il suo mentore dentro la Lethe, è scomparso e noi arriviamo nel momento in cui lui già non c'è più e quindi per ricostruire la sua storia dobbiamo partire da quando Alex è arrivata a Yale e quindi la sua assegnazione all'uomo, l'inizio del loro rapporto e quindi anche come funziona tutta la questione delle società segrete dentro Yale ed è tutto nel passato, tutto è a ritroso. E poi c'è la storia di una ragazza uccisa barbaramente nel campus e che dà l'inizio fondamentalmente agli eventi del presente in cui noi ci troviamo. Quella è la dimensione dove noi indaghiamo l'atmosfera presente. La scrittura, manco ve lo sto a dire perché tanto è come ribadire le cose ovvie, è magnifica, è eccellente. Io la trovo quasi sempre commovente in realtà ma so che non è nulla di nuovo. C'è una cosa che lì Bardugo sa fare come nessun altro, ovvero mettere tutte quelle parole vicine, poi dalle parole vicine passiamo alle frasi vicine e alla fine nasce un romanzo che è scritto magnificamente. Dal punto di vista linguistico, della scelta di ogni termine, nell'incastro di ogni parola c'è sempre un lavoro molto minuzioso. Per me leggerla infatti diventa un'esperienza molto rilassante, molto piacevole perché sembra proprio come se lei abbia snocciolato ogni minima parola, ogni lettera che lei ha messo vicino, con grandissima cura, come se lei volesse bene ad ognuna di loro, so che sono romantica in questa visione, però è tutto incastrato alla perfezione e c'è un motivo se lì Bardugo è estremamente quotabile, se tutto ciò che lei scrive è tatuabile, come dico ormai quotabile vuol dire tatuabile. Rispetto alle sue opere precedenti, sicuramente questo è qualcosa di diverso perché la scrittura è molto più densa, molto più complessa e decisamente votata a creare atmosfera in una maniera molto molto lirica. Insomma, quello già lo sapevamo secondo me, è che qua tutto viene intensificato e tutto viene sicuramente addensato. Cioè ci vuole un pochino ad abituarsi a questo upgrade da Super Saiyan di Liber Dugo, ma dopodiché diventa quasi una droga, cioè dopo ogni paragone diventa difficile. Ma dalla scrittura ovviamente viene naturale passare al lato oscuro della forza che si porta con sé, ovvero la parte forse più negativa che secondo me fatica a rendere questo libro estremamente fluido, ovvero il ritmo. E se sulla scrittura sicuramente non ci possiamo stancare, sul ritmo la questione cambia un pochino. Infatti secondo me il ritmo è l'elemento più debole del romanzo, anche se è molto chiara la sua intenzione. Infatti la Bardugo si prende il suo tempo per costruire il world building, per costruire il mondo, per farci ambientare, per presentarci personaggi e per introdurci anche a tutti i misteri. Che non vuole ovviamente svelare in fretta. E per costruire e introdurci ogni cosa si prende quasi il 40% del libro. Re-resistere fino a quel punto è effettivamente una vera impresa, però vi consiglio di farlo. Perché l'esperienza che poi riusciamo ad avere da questa lettura è proprio come se noi fossimo arrivati a New Haven insieme ad Alex e quindi vediamo le cose con i suoi occhi. Non sappiamo tutto, ma le cose le dobbiamo piano piano mettere insieme. E quindi come se fossimo arrivati in un nuovo posto abbiamo non solo la necessità di conoscere ciò che non sappiamo, ma anche quella di ambientarci. Dobbiamo capire i luoghi, i segreti, conoscere le varie comparse e ad un livello un po' più profondo ci rendiamo conto che sono soprattutto le cose non dette che sono quelle che vogliamo sapere e quelle che dobbiamo scoprire. Soprattutto perché abbiamo bisogno di capire perché sono pericolose per noi, perché sono una minaccia. Tutto bellissimo, per l'amore del cielo, detto col segno di poi, ma arrivare a quelle 150 pagine mi ha richiesto tipo due settimane abbondanti di lettura. In compenso però devo dirvi che dal momento in cui arriviamo più o meno a quel 40%, cioè quando abbiamo chiaro tutta l'ambientazione, tutti i misteri, e iniziamo un po' a ingranare anche con la storia dei personaggi, riusciamo un po' a individuarli, io ho letto il resto in due giorni e sono 250 pagine abbondanti. Infatti da quel punto la storia inizia ad ingranare, iniziamo anche a capire, tutto inizia a tornare, iniziamo a capire quali potrebbero essere le profonde radici dei misteri, anche se poi in realtà ci sbagliamo in ogni caso, e riusciamo ad avere tutti gli strumenti per poter camminare con le nostre gambe all'interno della storia. Infatti vi ripeto, se per le prime ho fatto estrema fatica a leggerle e anche a sentirmi proprio coinvolta, perché ci vuole tantissima concentrazione, bisogna proprio avere tempo per leggere, le altre le ho bruciate, e il resto del romanzo io l'ho bruciato. Ma infatti la seconda parte del romanzo, la seconda metà, al di là del ritmo, che sicuramente nella seconda metà è molto più consolante, molto più dinamico, è anche estremamente avvincente, perché inizia a mettersi in moto l'azione. Iniziamo a capire che fino a quel momento tutti i misteri che abbiamo delineato li avevamo guardati solo con un primissimo occhio molto superficiale. sotto questa prima patina iniziale che abbiamo potuto scorgere, si nascondono cose molto peggiori di quelle che avevamo pensato, più complicate ed evoluzioni che non possiamo prevedere o che non avevamo previsto. Nine Thales è proprio un libro che si prende il suo tempo, come se ne avesse all'infinito, per traghettarti in un mondo che è già di per sé complesso, fatto di tematiche che non sono mai banalizzate, e con una serie di intrecce e di misteri che noi dobbiamo sbrogliare, proprio come se fossimo Alex. E quindi tra il passo che se la prende con molta calma, le diverse storyline e le timeline che non sempre ovviamente parlano dello stesso periodo, ma che vanno avanti e indietro, in alcuni punti rischia di lasciarti anche un po' confuso. È un libro che rischia perché sulle prime è tutto tranne che è un libro trascinante, perché risulta proprio più una lettura atmosferica, una lettura che impone un certo tono e che richiede un certo tipo di concentrazione per entrare nel mondo delle case di Yeo. Personalmente però ritengo che la sfida iniziale, cioè quel voler procedere nella parte iniziale, quella fatica, quella sfida che quasi ti pone il libro, venga ripagata enormemente. Primo perché come esperienza di lettura è un'esperienza molto piacevole, molto atmosferica, ma appena si iniziano a mettere insieme i pezzi, appena si iniziano a fare tutte le varie, quando noi moderni Sherlock un po' dark, gotici, iniziamo davvero a, iniziamo a vedere con più carezza il quadro generale, questo libro esplode, questo libro balza in avanti tantissimo. Quindi insomma fondamentalmente il ritmo è vero che è l'elemento più debole del romanzo, anche se ne ha una chiara intenzione, riuscito o meno che sia la prima parte, è sicuramente molto lenta e richiede tantissimo sforzo. La seconda metà invece spazza via completamente la fatica della prima, perché chiaramente, oltre ad avere un quadro più chiaro, iniziamo a ingranare insieme alla storia e iniziamo a inseguire i misteri. E da un punto debole passiamo ad un altro, sembra che sto parlando solo madre in questo libro, ma in realtà a me è piaciuto moltissimo, cioè spero che capiate bene come gli aspetti negativi, secondo me, abbiano dei risvolti invece, in alcuni casi molto funzionanti. Comunque, altro punto debole secondo me sono i personaggi. Sono mal costruiti? Assolutamente no, anzi, Alex, che è la nostra protagonista, ma anche D'Alenton, il suo mentore, come tutti i membri della società, la polizia, le sue compagne a distanza, insomma, sono tutti personaggi estremamente distinguibili l'uno dall'altro, mai troppo monocorde e che hanno un po' la loro ragione di esistere distintamente dalla storia di Alex. È ovvio che comunque devono essere funzionali anche alla storia principale e quindi relativamente ad Alex lo devono essere, perché devono disvelare l'omicidio, la scomparsa, insomma, devono inserirsi in tutto questo contesto. Però diciamo che il problema fondamentale di tutti loro è che nessuno è particolarmente memorabile e soprattutto nessuno di loro ci suscita un certo tipo di affetto. Che non è una prerogativa fondamentale quando si legge un libro, entrare in empatia e amare i personaggi. Si possono leggere libri dove noi odiamo profondamente il protagonista. È vero che però quando ti lasciano indifferenti o comunque dove non provi un particolare attaccamento di qualsiasi tipo, per me non è mai una cosa estremamente positiva. Non che io abbia bisogno di amare, però di apprezzare moltissimo e di tifare per questo personaggio penso sia comunque necessario per riuscire a pensare che questo personaggio mi ha colpito particolarmente. E la cosa molto strana di tutta questa storia è che io in qualche modo mi rivedo molto in Alex e sapete che io amo i personaggi in cui mi rivedo perché ovviamente cerco sempre gli scarti della società nei quali immedesimarmi perché fondamentalmente lo sono anch'io il prodotto di uno scarto e Alex in realtà è un personaggio molto difficile da amare è allo stesso tempo molto intensa ma è come se avesse tirato un mega frenamano su tutto che è comprensibile non è sicuramente quel personaggio pieno di battute pieno di carisma che ti colpisce dalla prima pagina Alex ha dei segreti che vuole mantenere anche perché ci mettiamo una vita a capire chi è cosa fa e quale sia la sua storia Alex sicuramente non viene da una classe benestante sembra perenemente fuori luogo inserita in un contesto di elite come quello di Yeo è un'ex tossica ed è stata anche l'unica sopravvissuta ad un omicidio nel quale era coinvolto anche il suo ex fidanzato che era anche il suo spacciatore l'unico regame effettivamente reale che lei abbia mai stabilito nel corso del romanzo è quello con Darlington il suo mentore che però è sparito e lei vede i fantasmi e questa cosa l'ha sempre rilegata ad essere un'esclusa della società un'emarginata internata più e più volte perché è pensata pazza isolata sempre di più per questo per combattere questa che lei vive come una malattia mentale si è rifugiata nelle droghe per spegnere il cervello e non pensare si è nascosta dal mondo e ha voluto sopprimere la capacità che la rendeva unica ma che allo stesso tempo la terrorizzava insomma questa sua capacità che è preziosissima per la società di Lethe in realtà le ha sempre creato problemi è stata la cosa che l'ha più fatta soffrire nella vita Alex infatti è il risultato di numerosi traumi che lei ha vissuto e la sua storia non ci viene sbattuta in faccia ma ci viene disvelata man mano che noi andiamo avanti con la trama quindi per conoscere lei e quindi affezionarci un po' di più a lei che ha sempre la bocca cucita e tra i due dice una parola in meno piuttosto che una in più ci vuole tempo non è un personaggio con cui è facile entrare in empatia dove è facile fare immedesimazione ed è difficile capire fino alla fine perché noi dovremmo tifare per lei perché non abbiamo tutti gli elementi della sua storia ne sappiamo solo pezzi cioè da un lato quando poi riusciamo a capire tutto quello che le è capitato sicuramente proviamo pietà per lei e sicuramente anche io mi sono rivista molto di più in lei anche se io non ho mai avuto problemi con le droghe però le nostre storie sono molto sovrapponibili non è un personaggio nemmeno così forte così trascinante che quindi ti colpisce particolarmente anche se è sicuramente un tipo molto determinato molto forte perché ha resistito a tutto quello che ha vissuto e non è nemmeno un problema di come è costruito infatti il personaggio perché è costruito magnificamente ci vuole molto tempo per costruirlo e forse anche quell'attesa è sempre molto snervante quindi non è proprio il problema del costruire un personaggio come quello di Alex è che probabilmente non essendo riuscita a costruire un personaggio particolarmente forte per il lettore diventa un problema non troppo secondario nel libro perché Alex è sicuramente un personaggio ottimamente costruito ma per costruirlo ci mette troppo tempo e questa attesa è come quando insomma è quando noi conosciamo qualcuno di nuovo se ci teniamo particolarmente ci prendiamo tutto il tempo che ci interessa per approfondire ma se sulle prime questa persona non ci fa una particolare impressione non abbiamo così tanto tempo a disposizione e anche gli altri personaggi sono di difficile decifrazione per certi versi Darlington sembra il più interessante di tutti per quel poco che vediamo di lui ma appunto è scomparso non c'è noi riviviamo ciò che è successo nel passato piano piano ne percepiamo quindi solo degli echi e facciamo anche fatica a capire inizialmente perché ci sia tutta questa necessità di ritrovarlo perché non abbiamo capito il tipo di rapporto che ha con Alex perché Alex non è espansiva quindi lo capiamo proprio solo verso la seconda metà solo verso la fine e gli altri personaggi sono sempre davvero molto poco indagati o comunque appaiono davvero molto poco anche se possiamo parlare dell'agente di polizia che è molto interessante aiuta Alex tantissimo della sua compagna di stanza della sua compagna di Letha insomma ci sono cose interessanti ma sempre molto marginali e quindi i personaggi secondo me in questo caso sono un punto debole perché mentre l'atmosfera è magnifica e capisco che lei si sia presa tutto il tempo per costruire piano piano la storia perché non ci viene buttato e rigettato addosso tutta la storia di Alex di Darlington delle società c'è tempo per costruire però dal punto di vista invece empatico sul personaggio questa attesa è forse estenuante ma passiamo alle tematiche che secondo me è un tema da un lato controverso ma forse la cosa che più mi ha fatto amare questo volume come vi dicevo anche prima sono doverosi trigger warning perché questo libro contiene violenza in maniera cruda ed esplicita come dovrebbero poi essere abituati abbastanza i lettori di adult fantasy sono scene spesso gore dove non ti vengono risparmiate dita infilato dentro le ferite e fiotti di sangue quindi se non vi piace questo tipo di approccio forse c'è da stare attenti ci sono moltissime scene vengono trattate tantissime tematiche molto crude molto aspre come l'abuso la violenza sessuale l'uso e l'abuso di sostanze la morte la perdita la tragedia il dolore la malattia mentale cioè insomma per chi queste cose non le vuole leggere vuole delle una lettura più tranquilla questo forse non è il libro che fa per voi sicuramente ma per tutti gli altri questo sarà un libro estremamente forte nella resa di tutte le tematiche che vi ho appena citato la violenza non è mai gratuita è una forma di difesa è sopravvivenza è qualcosa di necessario da un lato e dall'altro invece è una forma di controllo di potere nascosto nell'ombra e che grazie al terrore che sparge e che contamina le persone che stanno attorno a queste società diventa la prima e fondamentale arma di oppressione Ninth House riesce a raccontare sotto diversi aspetti e legati a diverse tematiche la storia di tanti sopravvissuti che devono trovare il modo anche di ricostruire la propria vita di andare avanti e soprattutto di fare conti con le conseguenze degli abusi che hanno subito Alex è veramente una sopravvissuta che ha visto il peggio sotto diversi aspetti in primis la partenera ad una classe sociale che viene continuamente schiacciata e oppressa la sua origine latina poi non aiuta perché la rende solo ancora più emarginata rispetto a altre categorie quindi il vivere anche emarginazioni sociali ulteriori che sdoganano praticamente ogni tipo di vessazione verso le minoranze Alex è rifugiata nelle droghe per sopravvivere a ciò che non può controllare quindi al suo potere e questo l'ha resa ancora di più un'emarginata ancora di più un rifiuto della società uno scarto vi ricorda qualcosa questo per me è stato davvero potente da leggere Ninth House ragiona in maniera molto ampia sui parallelismi tra la storia personale e sugli abusi che tutti quelli che appartengono alle classi sociali più basse agli strati sociali più deboli subiscono nel corso della loro vita di natura ovviamente sempre diversa perché da personaggio a personaggio noi incontriamo e vediamo storie diverse e invece un sistema che è iper protettivo verso chi perpetua la violenza verso gli oppressori chi infligge l'abuso invece che avere gli stessi riguardi per le vittime non proteggendole e di come sia difficile combattere questo sistema come sia estenuante come sembra impossibile e come questo sistema sia stato studiato e messo a punto non per difendere i più deboli ma per continuare a perpetuare l'oppressione attraverso diverse forme sempre più violente sempre più nascoste per questo Ninth House non è un libro per tutti di nuovo perché è un libro scomodo è un libro sotto diversi aspetti scritto per dare fastidio per creare disagio per farti incazzare e tu devi essere a disagio tu devi essere incazzato e questo aspetto secondo me è il più potente di tutto il libro le tematiche vengono trattate benissimo all'interno del libro perché io ero arrabbiata mentre leggevo questa storia perché tutto ciò che vediamo al di là dell'aspetto magico e dell'aspetto più fantastico è qualcosa che noi viviamo tutti i giorni è qualcosa che è insito nella nostra società che gli strati sociali come quello da cui vengo io più bassi non riescono facilmente a combattere ma vengono sempre di più schiacciati sempre di più dimenticati sempre di più lasciati da parte e io ero incazzatissima mentre leggevo ero pronta con la mia bandiera del distruggiamo il capitalismo e il patriarcato e l'oppressione contro il pueblo perché mi ricorda che io proprio come Alex ho dovuto sempre lottare per ogni cosa nella mia vita e che io sono la vittima di abusi molto diversi rispetto a quelli di Alex per alcuni versi ma che io sono lo stesso prodotto di scarto proprio come lo è Alex e questo per me è stato molto potente perché lì Barduga è riuscita a disegnare qualcosa di estremamente crudo reale e che ha moltissimi parallelismi con quello che viviamo ora insomma come sempre su questo sono grata perché non avevo dubbio la Bardugo riesce a maneggiare con grande abilità queste tematiche senza mai riuscire a banalizzarle in mano a chiunque altro probabilmente sarebbero risultate disastrose e invece lì riesce a convogliare in maniera mai banale sempre molto efficace e sempre molto disturbante ogni concetto ti fa arrabbiare certo ma tu ti devi arrabbiare perché se non ti arrabbi vuol dire che sei parte di quel sistema oppressivo ogni volta che affronto questo tema io mi divento una viena ovviamente quindi come dico sempre è tutta una questione di classe ci dimentichiamo che siamo parte di una classe sociale e che non abbiamo più coscienza di classe ma è tutto questione di classe sarà sempre questione di classe quindi in soldoni che cosa ho pensato di questo libro quali sono le mie impressioni probabilmente al di là di quello che avete ascoltato fino adesso a me è piaciuto moltissimo nonostante sia un libro impegnativo non immediato e sicuramente molto denso è provocatore da un lato perché vuole scatenarti la rabbia la stessa rabbia che prova chiunque sia stato oppresso e abbia subito l'abuso in qualsiasi forma almeno una volta nella sua vita ma è anche dannatamente affascinante io sono una grandissima appassionata di un immaginario decadente gotico se vogliamo oscuro che ovviamente accompagna tutta la questione delle società segrete sono una figlia degli anni 90 sono cresciuta con The Skull sono sempre stata affascinata dalle cose tetre dall'occultismo dall'esoterismo e dagli aspetti forse più cupi dell'immaginario legati alla magia e quindi questo libro è riuscito a toccare quelle corde emotive estetiche tematiche che sviluppa man mano dell'atmosfera che riesce a creare che per me sono state eseguite in maniera eccellente cioè questo è quello che io volevo e anche se per tantissimi versi non era assolutamente ciò che mi aspettavo insomma se queste cose vi appassionano vi affascinano questo è un libro incredibile cioè come vi dicevo all'inizio sono quattro stelline che io gli ho dato perché alcuni elementi sicuramente non funzionano benissimo ma ciò che riesce a creare Ninth House la storia che delinea la trama di per sé è qualcosa che vuoi divorare assolutamente perché man mano che vai avanti vuoi ne vuoi di più l'inizio infatti di Ninth House sicuramente è molto ostico non è qualcosa di fluido e semplice ma è un libro estremamente originale e spietato e noi ne avevamo bisogno non so se ho detto tutto lo spero perché penso di aver già parlato per una quantità di tempo infinito davvero leggete Ninth House uscirà anche l'anno prossimo in Italia con il nome di La Nonna Casa sempre per Mondadori io non so che dirvi se non questo è un libro davvero originale affascinante atmosferico cupo ma allo stesso tempo non banale per come tratta le tematiche molto affascinante anche per la trama di per sé perché si compone davvero di tantissimi strati e rende tutto molto intricato e appassionante davvero ho ritrovato le cose che a me più piacciono a me piacciono gli intrighi le cose complesse che non ti vengono sbattute in faccia quindi benissimo sono esaltatissima dal fatto che questo sia un ottimo libro ora è uno dei miei libri preferiti dell'anno sicuramente a mani basse anzi forse il mio preferito dell'anno per ora perché è qualcosa di nuovo è qualcosa di inaspettato sicuramente bisogna prenderci le misure niente io spero che questa recensione sia stata utile ho cercato di non fare spoiler che è molto difficile però spero davvero che insomma sia risultata puntuale e interessante fatemi sapere se l'avete letto cosa ne avete pensato voi e se avete rivisto le cose che ho visto io se no insomma mettetelo in tbr questo assolutamente questo è un ordine allora direi che ora vi faccio vedere anche che è autografato no è che è molto bella questa edizione nonostante io preferissi l'altra però detto ciò basta cagate e niente io direi che per oggi è tutto vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e Libardugo e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao